Marco, come gestisco uno staff delle pulizie? Oggi voglio rispondere a questa domanda, perché molti me la fanno, molti mi chiedono Marco, ma sei tu che ti fai le pulizie nei tuoi appartamenti? Ragazzi, assolutamente no, non saprei neanche da dove partire, come dico sempre è una skill che pagate molto molto poco Conviene delegare, in questo caso, cioè il tempo che dedichereste a fare le pulizie lo potete dedicare ovviamente ad altro, pagando magari 10 euro all'ora e ottenere in cambio un beneficio maggiore Non facendo quell'attività, ma insomma si parla di fare delle pulizie, quindi dall'altra parte credo sia anche palese come questa cosa vada assolutamente delegata Per chi come sempre non conosce questa nuovissima attività che mi permette costantemente di sfruttare i mobili che non sono miei Ma dall'altra parte mi generano una vera e propria rendita mensile e stabile dai mobili che, ripeto, non ho acquistato Senza partita in modo totalmente regale, senza investimenti iniziali o con un budget ovviamente risorio Perché ci sono due declinazioni principali di questo business e senza fare cose complicate tipo aste immobiliari Ovviamente accedere al debito perché ricordiamoci, non bisogna acquistare gli immobili Ho preparato un mini corso gratuito che trovate qui sotto, potete contattare anche il mio team su Whatsapp Tutto quanto, fate tutte le domande che avete oppure continuate a guardare gli altri video che sono presenti su questo canale Ora, parliamo un attimo di pulizie, come funziona però? Piattaforme come Airbnb e Booking, quando voi pubblicate un annuncio, vi dà la possibilità di scegliere una tariffa giornaliera Quindi voi scegliete una tariffa di 100 ore a notti Ipotizziamo che voi, appunto, decidete che il vostro appartamento vale 100 euro a notte Dall'altra parte, Airbnb e anche Booking, che sono le due piattaforme principali Ce ne sono molteplici, almeno quello che utilizzo io Vi danno anche la possibilità di inserire un costo di pulizia Quindi ogni volta che un ospite sceglierà di prenotare un appartamento Il vostro appartamento, la vostra villa, la vostra casa, eccetera, eccetera Che poi non è vostra ma quella che gestite o quella che avete preso in sublocazione Appunto vi chiederà di inserire un costo di pulizia Quindi l'ospite vedrà 100 euro di tariffa giornaliera per l'appartamento Più, ipotizziamo, siamo 20 euro di spese di pulizia Quindi pagherà un totale di 120 euro Più magari banalmente le commissioni che Airbnb Quindi i costi del servizio di Airbnb L'ospite paga questi costi del servizio Che poi vanno direttamente alla piattaforma Dall'altra parte, facendo questo, voi avete la possibilità di raccogliere dei soldi Che poi ovviamente verranno girate a delle persone Che vi aiutano uno staff delle pulizie Però molti a questo punto mi fanno una domanda Marco, ok, ma come trovo questo staff? O l'ho già spiegato in molti video Molto banalmente basta inserire un annuncio su Subito.it Che è una piattaforma che conoscono tutti i ragazzi Super utilizzata per appunto vendere cose Pubblicare annunci di lavoro, immobili, appartamenti in affitto, di tutto Però molto banalmente potete fare un annuncio Dove ricercate una signora, un signore Un qualsiasi tipo di persona Che si occupi di pulire un appartamento Dovete specificate quanti sono i metri quadri Quanto è grande Che tipo di impegno a livello di tempo è richiesto Che tipo di disponibilità vi serve E che soprattutto specificate che è destinato agli affitti brevi Cioè che degli ospiti dovranno entrare all'interno di questo appartamento Perché una cosa è pulire un appartamento privato Una cosa è pulire un appartamento che poi ovviamente Dovrà essere presentabile ad un pubblico, dei clienti Quindi specificatelo Ora qualche consiglio pratico che vi do Così Allora prendete più donne delle pulizie Anche se avete un solo appartamento Soprattutto all'inizio per testare queste persone Perché purtroppo non c'è un vero e proprio modo e metodo Per capire se una persona è brava o non è brava Innanzitutto fate dei testa campione Quindi non avvisate queste persone che verrete a controllare come è pulito l'appartamento Ma fateli comunque Quindi una volta che una persona, questa persona, questa donna delle pulizie O questo uomo delle pulizie, chiamatelo come volete Arriva nell'appartamento pulisce E voi non avvisate questa persona Arrivate magari un'ora dopo Prima del check-in ovviamente dell'ospite E controllate che tutto sia a posto ovviamente Se avvisate queste persone prima Queste persone ovviamente puliranno bene Perché sanno che voi state arrivando in questo caso Quindi fate dei controlli a campione Dall'altra parte chiedete sempre dei feedback agli ospiti Quindi ogni volta, soprattutto le prime prenotazioni Chiedete all'ospite Mandateli un messaggio su Airbnb Per esempio dicendo Molto banalmente Ciao caro ospite Spero sia andato tutto bene Fammi sapere se il check-in è andato a buon fine Come ti stai trovando all'interno dell'appartamento È tutto a posto Dammi un feedback Una cosa di questo tipo L'ospite vi dà un feedback Vi dice Sì sì è tutto pulitissimo Tutto perfetto Dopo due, tre, quattro ospiti Vi dicono è tutto perfetto Ovviamente potete Fidarvi un po' di più di questa donna delle pulizie Poi altri consigli pratici Che se no poi me li dimentico Tendete ragazzi Lo so che È brutto da dire Soprattutto da un ragazzo che ha 21 anni Tendete a non preferire persone giovani Purtroppo Per questa attività qua Perché Mentre Persone come me Persone come magari te Che stai guardando questo video Siamo persone responsabili Diligenti Che sanno mantenere degli impegni Molte O molti Che effettivamente fanno questo lavoro Magari sono giovani E quindi lo fanno per arrotondare Visto che Noi in questo caso Che ci occupiamo di affitti brevi Lavoriamo con una domanda Anche turistica Inevitabile A ferragosto I weekend di luglio I weekend di agosto I weekend di dicembre Di natale Capodanno Eccetera eccetera Noi saremo sempre occupati Lavoreremo sempre O meglio I nostri appartamenti Lavoreranno sempre Non noi Magari mentre siamo in vacanza Per esempio Sono stato Ora 10 13 giorni Via in vacanza Mettiamola così A fare un giro E dall'altra parte C'erano i miei appartamenti Che comunque avevano Un sacco di prenotazioni Check in check out E ho completamente automatizzato Tramite i dispositivi Self check in Non già parlato ovviamente In altri video Però visto che noi Lavoreremo O meglio I nostri appartamenti Lavoreranno anche Durante questi periodi Molto molto caldi Se prendete molto banalmente Una ragazza giovane Un ragazzo giovane Il primo weekend Di sole A luglio Agosto Ovviamente Potrebbe semplicemente Tirarvi un gran bel pacco Quindi voi vi ritrovate Con degli ospiti Che stanno per entrare Nell'appartamento Ma La donna delle pulizie Semplicemente Non è andata a pulirlo Magari vi riscrive Il giorno dopo Dicendo E come sono le scuse Queste sono cose Che mi sono capitate Quindi tendete a preferire Delle persone Un po' più avanti con l'età Che hanno più esperienza Che sono più affidabili Più responsabili Poi non è sempre detto Che una persona più adulta È più responsabile Ma dall'altra parte Io cerco ovviamente Di limitare i danni So che Un ragazzo giovane In linea di massima Poi non si fa Di tutta l'erba Un fascio Questo lo capisco Ma A volte ragazzi Dovete farlo Soprattutto delegando Una skill così Così semplice Allo stesso tempo Però molto importante Tendo a non preferire A prendere una ragazza giovane O ragazza giovane Perché mi è già capitato In passato Purtroppo che Il primo weekend di sole Questa persona Dà semplicemente forfè E non può venire A pulire l'appartamento E mi ritrovo con degli ospiti Che devono arrivare Perdo magari 100 200 300 500 euro Magari per un weekend La cosa mi rode particolarmente Quindi abbiate magari Due donne delle pulizie Uomini delle pulizie Fin da subito Poi un'altra cosa Che ci tengo a chiarire Che molti non capiscono È che voi non dovete Assumere queste persone Visto che prima Vi ho fatto appunto l'esempio Volevo collegarmi In questo caso Se un ospite paga 100 euro a notte Che arrivano direttamente a voi E 20 euro in più Di pulizie Quei 20 euro Li potete girare Tranquillamente Alla donna delle pulizie Quindi voi non dovete Pagare una persona Fino a che Ovviamente non ottenete Delle prenotazioni Quindi è rischio Tra virgolette zero Non dovete assumere una persona Non dovete fargli Un contratto di lavoro Anche perché Se operate senza partita IVA Non avete Un'azienda Quindi D'altra parte Non potete gestire del personale Non potete assumere delle persone Fare dei contratti di lavoro Assolutamente no Voi trovate queste persone Che lavorano come Liberi professionisti Sono affari loro Se emettono fattura Non emettono fattura Non è una vostra responsabilità Voi pagate queste persone qua Queste persone dovrebbero Emettervi fattura Se volete voi In questo caso Richiedetela Altrimenti no Se operate senza partita IVA Non avete costi da scaricare Non vi frega assolutamente niente Quindi è una loro responsabilità Molti mi chiedono Marco ma Cavolo Assumere una persona Mi sembra un po' esagerato Non dovete assumere Nessun tipo di persona A meno che Non diventate grandi Avete magari delle aziende A quel punto lì Vi conviene assumere delle persone Pagarle 1200 1400 Quello che è Al mese E farli fare ovviamente più stanze Li potrebbe convenire All'inizio Quando avete uno Due Tre appartamenti Assolutamente no Poi Un'altra cosa Tenete a avere ovviamente Dei A proteggervi Da un certo punto di vista Quindi Molto probabilmente Se avete due appartamenti Abbiate due donne delle pulizie Non fatevi troppi scrupoli Tanto Queste persone Molto probabilmente Lavorano già part time Hanno già un altro lavoro Fanno altre piccole attività Per portare ovviamente Il pan a casa Perché molto spesso sono in situazioni Magari spiacevoli A livello economico Quindi hanno bisogno di fare Quello che possono Per appunto Portare il pan a casa Quindi Potreste dire Eh no ma Due appartamenti Li do da gestire Una donna delle pulizie È più semplice No Abbiate due donne delle pulizie Magari per Uno per appartamento Così che Se qualcosa va male Se un giorno La donna delle pulizie è malata Se c'è un problema All'appartamento Potete appunto Passare la palla All'altra donna delle pulizie O l'altro uomo delle pulizie O lo staff Insomma In questo caso Quindi questo è un altro Consiglio che vi posso dare Poi Un paio di regole generali Per avvantaggiare Il lavoro delle donne Delle pulizie Allora Se voi trovate degli appartamenti Il consiglio che do sempre io È trovare degli appartamenti pronti Poi Ripeto Tutto questo discorso Che sto facendo È più applicato A chi opera in subloccazione Perché chi opera in gestione Lavorando con un proprietario Molto probabilmente Offrendo una gestione online Che è quella che preferisco Quella che offro Al 90% di miei clienti Io mi occupo solo di Ristrutturare l'annuncio Gestire i prezzi Gestire la comunicazione Con gli ospiti Cambiare ovviamente i prezzi Creare delle strategie Eccetera eccetera Un sacco di cose Che possono essere fatte Da ovunque nel mondo Dal mio computer O dal mio smartphone Quindi non mi occupo Delle pulizie O del self check in O del check in Check out Gestione dei problemi Degli ospiti All'interno dell'appartamento Se ne occupa il proprietario Magari mi prendo Una percentuale più bassa Ma ho molti meno problemi Quindi Voi dovrete gestire Uno staff delle pulizie Solo se ho operato In sublocazione Oppure se ho operato In gestione E mi offrite un servizio Ovviamente completo Cioè Caro proprietario Io ti gestisco Tutto quello che riguarda Gli effetti brevi Tu te ne devi dimenticare Ovviamente potete chiedere Una percentuale più alta Dipende come volete operare Ci teniamo a dire questo Comunque Io consiglio sempre Di prendere degli appartamenti Che hanno degli elettrodomestici Quindi molto banalmente La lavatrice Molti mi chiedono Marco ma come lavo le lenzuola Quante lenzuola deve avere Vi do delle regole generali Ora ovviamente Non posso entrare nel dettaglio Sennò diventa una lezione Di un'ora e mezza Ipotizziamo Che avete un appartamento Che accoglie tre ospiti O meglio Anche due ospiti Il classico bilocale Con una camera da letto Al massimo un divano letto Per una persona Quante lenzuola dovete avere Ragazzi Se avete molto banalmente Un letto matrimoniale E un divano letto Prendete due lenzuola Che vi servono Due set di lenzuola Ovviamente Con i vari cuscini Blah 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 E semplicemente Moltiplicate per due O addirittura per tre Dipende quanto volete Essere conservativi Questo numero Quindi se vi servono Due set di lenzuola Abbiatene quattro All'interno dell'appartamento Perché? Perché una volta che La donna della pulizia entra La prima cosa che fa La prima cosa che deve fare Come le ho istruite io In questo caso È togliere tutte le lenzuola Tutte le cose da lavare Asciugamani La stessa cosa vale Per gli asciugamani Ragazzi Se mettete un set Per persone di asciugamani Molto banalmente In questo caso ne avete quattro Se il vostro appartamento Tiene quattro ospiti Abbiatene otto Quindi moltiplicate per due Questo numero O addirittura per tre Se volete avere Un cambio ancora extra Per il momento in cui Le lenzuola O gli asciugamani Vengono ovviamente danneggiati Vengono macchiati Eccetera eccetera Però molto probabilmente Stavo dicendo La donna della pulizia Entra Prende tutta la roba sporca La butta in lavatrice Se è presente l'elettrodomestico Se no Tra pochissimo Vi do una soluzione E mentre Mentre aspetta che Questa lavatrice Finisca mezz'ora Un'ora Dipende Scusate Semplicemente La donna della pulizia Intanto aspira Fa tutto quello che deve fare Mette a posto Lave i piatti Eccetera eccetera Pulisce il bagno Tutte queste piccole attività Che permettono insomma Di ottimizzare il tempo Nel momento in cui Finisce questa cosa qua Tira fuori le lenzuola O meglio Utilizza Scusate Il cambio Che avevamo comprato Quindi Io ho fatto il ragionamento Del moltiplicare per due Quindi prendere le lenzuola pulite Metterle su Prendere le lenzuola pulite Ma bagnate In questo caso E metterle ad asciugare Da qualche parte in casa Così che La prossima volta Continui questo ciclo Quindi prenda le lenzuola A che a quel tempo Magari dopo uno o due giorni Saranno diventate asciutte E continuare a fare questo giro Poi potete avere Un cambio ancora extra Nel momento in cui Un paio di lenzuola Venga semplicemente Lineggiato Macchiato Un ospite espande Il bicchiere di vino Poi dall'altra parte Potete farvi risarcire Ma intanto Siete coperti Per quella notte O quelle notte successive Quindi ci teniamo a darvi Anche questa regola generale Poi Marco io non ho la lavatrice Come faccio La donna delle pulizie Se la deve portare a casa Devo pagare di più Ragazzi Assolutamente sì Tanto compenserete Se questa persona Non sta all'interno Dell'appartamento Per quella mezz'ora Un'ora in più Mentre aspetta Che la lavatrice è finita Quindi possiamo Stare a 45 minuti in più O un'ora in più E voi la pagate 10 euro l'ora In questo caso La pagherete 10 euro in meno Ma dall'altra parte Le darete magari Quei 10 euro in più Per coprire Il problema Di portarsela ovviamente A casa E lavarla a casa Oppure Molto spesso Se operate magari In centricità Ci sono dei lavasciughe Delle lavanderie automatiche Scendete Ci sono queste lavatrici Anche industriali Insieme anche le asciugatrici Dove spendete 2-3 euro Monetine O vanno anche gettoni In questo caso E potete fare dei lavaggi Quindi la donna di pulizia Sale Prende le lenzuola Scende Dal palazzo Le butta dentro E voi gli pagate Sempre quei 2-3 euro Gli prendete magari Una bottiglia Non lo so Qualsiasi tipo di cosa Riempita di gettoni In questo caso Sono cose che vanno Influire veramente Veramente poco Però vedo che molti Mi facevano queste domande Quindi ho voluto Darle una risposta Al vostro problema Ragazzi Non saranno le pulizie Non sarà quello che Effettivamente Detarmi ne si guadagnate O non guadagnate Nel momento in cui avete Delle prenotazioni Quindi non avete rischi Non dovete assumere Delle persone Aspetta ho fatto Un preambolo Anche se sono entrato Comunque nel dettaglio Un po' generale Queste sono delle regole Le più importanti Che vi posso Insomma Dare in questo caso Quindi detto questo Non voglio far durare Troppo questo video Questa lezione Come sempre Ci vediamo Al prossimo